Salve ragazzi, con questo video vi presento i sostantivi di terza declinazione col tema in vocale dolce, iota o y. Questi temi in iota e in y sono riconducibili a temi originariamente in jod e di gamma rispettivamente e possono essere suddivisi a loro volta in due gruppi. Partiamo dai sostantivi in iota. Questi sostantivi in iota possono avere tema in iota lungo o tema in iota breve. Partiamo da quelli col tema in iota lungo. Come vedete nella tabella, il vostro libro vi riporta due sostantivi chis, chios, lis e lios. Subito notate che mancano delle forme, quindi questi sostantivi non hanno tutte le forme attestate. Le desinenze sono quelle che già conoscete di terza declinazione, il nominativo estigmatico, il genitivo in os, il dativo manca, l'accusativo in in, manca anche il vocativo, manca il duale per intero e poi il nominativo plurale in s, il genitivo manca, il dativo è attestato per lis e lios ed è li e si, l'accusativo è attestato per chis e chios e ha la doppia forma. Quella con desinenza sigma tipica dei temi in vocale è quella con desinenza alfa sigma con l'alfa derivante dalla vocalizzazione di ni che è solitamente tipica dei temi in consonante, ma anche il vocativo plurale. Andiamo avanti e vediamo i temi in iota breve. Si distinguono a loro volta in due gruppi, senza pofonia e con. In questa slide vi faccio vedere quelli senza pofonia e vi porto tre esempi. Oisoios, che ha un corrispettivo in latino, ovis, ovis, e si vede chiaramente che il digamma in greco, essendo intervocalico e caduto, in latino invece si è consonantizzato, dando come esito la fricativa vi. L'atto sostantivo che appartiene a questo gruppo è menis menios, l'accusativo menin è l'incipit del poema omerico iliade e posisposeos indica lo sposo sempre in contesti epici. Quindi sono tre sostantivi i più frequenti di questo gruppo. Quelli con apofonia hanno un triplo grado di apofonia. Un grado zero, che originariamente era jod, si è vocalizzato in iota e lo vediamo nei casi diretti del singolare. Un grado medio, epsilon jod, in cui il jod intervocalico cade con o senza contrazione delle vocali che si vengono a incontrare e lo troviamo nel nominativo dativo accusativo e vocativo plurale, in tutti i casi del duale. Secondo qualche manuale anche il dativo singolare deriverebbe da questo tema. Il vostro libro invece ritiene che il dativo singolare derivi da un grado forte, eta jod, che è lo stesso grado che noi troviamo nel genitivo singolare e nel genitivo plurale. Vediamo la declinazione. polis, poleos, polei, polin, poli, pole, che può diventare polei o pole, poleoin, poleis, poleon, polesi, poleis, poleis. Allora, partiamo dal singolare. Nominativo, accusativo e vocativo avevano un grado zero, jod, che si è vocalizzato in eota. Genitivo e dativo hanno un grado forte. Nel genitivo è un jod intervocalico che cade, un eta e un omicron, che per metatesi quantitativa diventano rispettivamente epsilon e omega. Questo trattino che vedete sotto epsilon omega è un segno per la sinizesi, cioè queste due vocali, sebbene siano in iato, costituiscono un'unica sillaba. Il dativo polei ha come esito polei con epsilon per analogia, si pensa, rispetto ai casi del duale del plurale oppure per abbreviamento in iato. L'accusativo singolare da un grado zero a vocalizzazione di jod in iota, è così anche il vocativo. Il duale ha una caduta di jod intervocalico. Nell'ominativo accusativo e vocativo possiamo vedere due tipi di contrazione, una che dà come esito epsilon iota e l'altra che dà come esito eta. Nel plurale jod intervocalico cade le due epsilon dando come esito epsilon iota. Nel genitivo plurale il grado forte eta e jod vede la caduta di jod intervocalico e la correpsio in iato dell'eta in epsilon. Il dativo plurale viene giustificato come una forma analogica rispetto alle altre forme del plurale, quindi comunque formata da un grado medio. L'accusativo plurale formato da un grado medio con desinenza tipica dei nomi in consonante, quindi ni sigma, caduta di ni e allungamento di compenso di epsilon. Il vocativo plurale si comporta come il nominativo plurale. In questa schermata vi faccio vedere come molti di questi sostantivi in iota breve con apofonia siano dei nomina actionis, cioè dei nomi che indicano un'azione e derivano da un verbo. L'esempio che vi faccio è questo di aganactesis che deriva dal verbo aganacteo. Aganacteo significa irritazione e sdegno. Vorrei che faceste lo stesso lavoro con almeno 10 dei sostantivi presenti in questa schermata, andando a recuperare il verbo da cui derivano. Vediamo adesso i temi in y. Si dividono in due gruppi, entrambi apofonici. Nel primo l'alternanza è solo quantitativa, nel secondo invece è qualitativa. Vediamo il primo gruppo. La u del tema è lunga nei casi diretti ed è breve negli altri casi. A questo gruppo appartengono sostantivi come ictius, per esempio, botrius che è grappolo, mius che è topo, presbius che è vecchio. La declinazione è la seguente. Ictius, quindi nominativo sigmatico, ictuos al genitivo, ictui al vocativo, ictun accusativo, ictu vocativo. Il duale ictu e ictuin, il plurale al nominativo ictues ma anche attestato alla forma ictius, genitivo ictun, dativo ictiusi, accusativo o con desinenza tipica dei temi in vocale sigma o con desinenza tipica dei temi in consonante, ictuas, ictues. Il vocativo ha la doppia forma ictius, ictuas, a seconda che venga utilizzata la desinenza dei sostantivi in vocale o quella dei sostantivi in consonante. Il vocativo è ictues. Andiamo adesso invece ai temi nu con apofonia qualitativa. È attestato a un grado zero di gamma che si vocalizza in y, un grado medio epsilon di gamma con caduta del di gamma quando intervocalico e con contrazione o meno. Il grado forte eta di gamma è attestato nel genitivo singolare di alcuni sostantivi e viene considerato analogico rispetto ad alcuni sostantivi del gruppo in iota breve con apofonia qualitativa che abbiamo visto prima. Il vostro libro sceglie come sostantivo modello Pelechios che indica la scura. Quindi abbiamo al nominativo un grado zero con vocalizzazione del di gamma in iopsilon breve. Nel genitivo un grado medio con caduta del di gamma intervocalico e la desinenza epsilon omega giustificata come forma analogica rispetto ai sostantivi in iota con apofonia. Il dativo singolare con grado medio è caduta di 18 intervocalico, l'accusativo e il vocativo con grado zero e vocalizzazione di di gamma in iopsilon. Al duale in entrambi i casi grado medio con caduta di di gamma intervocalico, al plurale vediamo il grado medio diciamo prevalere e la dichiarazione è la seguente Pelecheis Pelecheon Pelechesi, Pelecheis Pelecheis, nominativo, accusativo e vocativo e hanno una contrazione delle due vocali epsilon che si incontrano dopo la caduta del di gamma. Al neutro abbiamo il sostantivo astiu, astiu-asteos che corrisponde un po' al latino oppidum come significato, indica la cittadella fortificata alla rocca. Questo sostantivo ha i tre gradi apofonici, infatti nel genitivo singolare come vedete c'è il tema di grado forte con eta e la metatesi di quantità che abbiamo visto già nel sostantivo polist-poleos. Quindi la dichiarazione è la seguente, essendo neutro i casi diretti sono uguali sia il singolare che il plurale. Astiu-asteos, astei, astiu-astiu. Al duale aste, asteoin, il neutro plurale nella forma diciamo non contratta, astea, che è più frequente ma potrebbe anche avere una forma contratta in eta, aste. In vocale iota e iupsi non esistono anche aggettivi. In vocale iota si tratta di aggettivi a due uscite che si declinano come i sostantivi in iota breve del tipo isoios. L'aggettivo più frequente è idris-idri, che indica l'esperto. Quindi la dichiarazione sarebbe idris-idri, idrios-idrios, idri-idri, idrin-idri, al singolare. Vado avanti, gli aggettivi della seconda classe in iupsi non invece si distingono in due gruppi. Esistono aggettivi a due uscite che sono composti con due sostantivi appartenenti al medesimo gruppo, quindi dacriu-dacrios, che indica la lacrima, e botrius-botrius, che indica il grappolo. Questi si declinano come i sostantivi corrispondenti. Invece gli aggettivi composti con pekius-pekius, il cubito, si declinano come i sostantivi in iupsilon con apofonia qualitativa, del tipo pelekius-pelekius. Quindi l'aggettivo dipekius-dipekiu al genitivo fa dipekius-dipekius, dipekii-dipekii al dativo, dipekiun-dipekiu all'accusativo singolare. Esistono anche aggettivi in iupsilon a tre uscite, con il tema apofonico, diciamo apofonico con apofonia qualitativa, e sono edius ed eia ediu. Il maschile e il neutro hanno un tema di grado zero con vocalizzazione del digamma e un tema di grado medio con cadura del digamma intervocalico ed eventuale contrazione, che si nota al nominativo accusativo e vocativo plurale. Il tema femminile ha un grado medio in cui, diciamo, l'incontro è digamma jod, il digamma cade anche qui perché intervocalico, e quindi la definizione è la seguente edius edei ediu edeos edeias edeos edei edeia edei ediun edeian ediu ediu edeia ediu. Al duale edee 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 edei edeio in edei edeio in edeio in. Al plurale edeis edei edei edea edeion edeon edesi edeiais edesi edeias edeia edeis edei edei edeia.